Giuseppe, vedi che io sto scendo un attimo, mi raccomando a te, non aprirei nessuno, tanto io ho le chiavi, eh. Va bene. Portafoglio, chiave della macchina, la chiave di casa. E lo sapevo che mi dovevo dimenticare le chiavi di casa, ma non è che io li guardo tutti. I ladri, mi vogliono rapire. Chi è? Io. Io chi? Io sono, apri. Sì, ma io chi? Come io chi? Io sono. Ah, è Giuseppe. Io chi? Sì, il cognome qual è? Io ho il nome, ma ne chiedi muerto il cognome, apri. Mi ha detto la mamma mia che non devo aprire nessuno. Giuseppe, apri muerto, Giuseppe, la mamma sono, apri. Tu vuoi rubare a casa mia, ma io sono più furbo di te. Giuseppe, si fa chiudere il supermercato di scanno. Parola d'ordine. E da quando cazzo teniamo la parola d'ordine? Apri muerto, apri. Non posso aprire nessuno, io sono la donna delle pulizie, la padrona non c'è. Buonasera, Notaio, buonasera. Giuseppe, apri, stai faccierti rubare temperate, apri. Se sei veramente la mamma mia, dimmi una cosa che sappiamo solo io e te. Tieni la testa rotta, da qua a qua. Non è vero, hai visto che non sei la mamma, io non c'ho la testa rotta. Perché ancora non è aperto, mo che apri, ti scascio tutto da capo di qua. Vai apri. Valedetto. Pronto. Giuseppe, sono la mamma, sto dietro la porta, per favore puoi aprire. Hai rubato anche il telefono della mamma mia, maledetto. Non hai intervenuto, ma non ti vedo un giorno, mannacchia. Ma il bello l'hai rubato. Chissà che. Ui, che sta facendo qua sopra? Tuo figlio non mi apre, che pensa che sono una ladra. Una ladra? E lo chiamiamo la polizia. Il figlio è scemo, il padre è coglione, è andato a fanculo, io entro dal balcone.